Confindustria critica il lavoro degli ambientalisti sul caso Noombrina. Dopo tanta attesa e dopo polemiche battaglie, si è arrivati all'istituzione del Parco della Costa dei Trabocchi. Un passaggio necessario, secondo gli ambientalisti, per apporre il vincolo utile a non procedere con le trivelle. Ma proprio su questo, Confindustria Abruzzo muove le sue critiche. Noi abbiamo posto l'accento su un aspetto procedurale che riguarda il cambio di regole in corso d'opera. Quindi questa procedura messa in atto di modificare le norme in corso d'opera non è una procedura accettabile. Questo aspetto è stato votato sicuramente dal Consiglio regionale, consapevolmente al fatto che stavano votando un qualcosa di dubbia costituzionalità. Perché la competenza in questa materia non risiede in capo alle regioni. Si parla della perimetrazione del Parco della Costa? La perimetrazione, se lei va ad esaminare la perimetrazione che è stata proposta, troverà una perimetrazione che, guarda caso, sta attorno alla piattaforma di Ombrina. Quindi non è una perimetrazione, non è un parco. È un'azione di disturbo ad una impresa che legittimamente, nel rispetto delle regole e delle leggi, sta operando.